Questa è una Canon AS6 subacquea. Andiamo brevemente a studiarne le caratteristiche. Innanzitutto l'apertura, come potete vedere ha un'apertura che tende ovviamente a sigillarla. Va spinta questa leva e va sollevata in questa maniera. A questo punto si apre, come potete vedere, e qui c'è l'alloggiamento per il rullino. Il rullino è un normale 35 mm che dovete mettere al suo interno. Ora, chiaramente non lo metterò perché non è tempo di fare il bagno, però poi di fatto va chiusa in questa maniera, va riagganciata nella parte in metallo e serrata. Per le pile vale un discorso simile perché chiaramente è fatta apposta per non lasciare entrare l'acqua e va girata questa levetta che, come vedete, apre la parte sottostante. Le pile sono due mini stilo che vanno inserite in maniera molto comoda e facile e poi rinserite al loro interno. Come potete vedere nella parte soprastante c'è la funzione per mettere il flash o toglierlo. La macchina è molto semplice, si blocca e sblocca e scatta in questa maniera. Questa è una cannon subacquea che non è molto costosa, anzi potete trovarla anche sul nostro negozio ebay.